Buongiorno a tutti. Sono state giornate molto intense quelle che hanno portato alla discussione in atto nell'Aula del Senato sulla legge di conversione del Decreto Scuola numero 22 2020. Infatti le proposte di modifica avanzate dalle parti sindacali e di alcuni partiti anche che sostengono la maggioranza di governo alla bando del concorso straordinario non sono state tenute in considerazione. È stato infatti approvato in commissione un emendamento supportato dalla maggioranza di governo che sostanzialmente modifica il bando del concorso straordinario nel senso di modificare la prova scritta da prova basata su quiz originariamente prevista dal bando a prova scritta risposta aperta così come è prevista nell'emendamento approvato e da spostare lo svolgimento delle prove dopo l'estate. In effetti il punto critico che era stato sollevato soprattutto dalle organizzazioni sindacali era quello legato alla garanzia della sicurezza dei candidati. In effetti lo svolgimento di una prova scritta del concorso in pieno mese di agosto ed ancora in piena emergenza coronavirus era un problema scottante posto sul tavolo del ministero che ha ritenuto di superarlo spostando il tutto a dopo l'estate ma approfittando anche per modificare le regole del concorso. Questo a fronte della premura che aveva avuto il ministero a bandire le quattro procedure concorsuali già a fine aprile. Ma non è tutto perché naturalmente non potendo concludere le operazioni concorsuali del concorso straordinario in tempo utile per l'assunzione dei 32.000 docenti già dal prossimo primo settembre il governo ha dato il via rispetto alle originarie previsioni del decreto scuola anche alle graduatorie provinciali previste dal decreto legge 126 2019. Quindi dal primo settembre si attingerà anche dalle graduatorie provinciali per portare in cattedra anche i 32.000 docenti che avrebbero dovuto essere assunti con contratto a tempo indeterminato già dal prossimo primo settembre. Siamo quindi in una fase di estremo caos nella scuola che ha portato tra l'altro il ministero anche a congelare i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso perché naturalmente visto lo slittamento e le modifiche in corsa proprio della procedura concorsuale non era opportuno mantenere aperti i termini per la presentazione delle domande. In queste ore è in discussione il testo finale della legge di conversione del decreto legge 22 al senato vedremo se vi saranno sorprese rispetto agli emendamenti passati in commissione. Grazie a tutti.